Premio Pandoro Melegatti, prova centrale, un bel miglio per soggetti di due anni, sono in sette al via, una fila completa, Sofiaz, Saphir B, Sores Petit, Scintilla MP, Silent Shadow, Samba di Azzura, Sakila, questo è il campo dei partenti. La macchina stacca, molto veloce lungo la corda Sofiaz, molto veloce all'esterno Sakila, sbaglia invece Saphir B, a contatto c'è Saphir B, numero 2, Saphir B, squalificato, numero 6, Samba di Azzura e Saphir B hanno sbagliato, è partito, forse è un errore anche per Scintilla, comunque è rimasto discosta, mentre davanti c'è Sofiaz, Sofiaz al comando, Silent Shadow, di rincalzo, poi Sakila, poi Scintilla, siamo al passaggio di fronte alle tribune, vediamo di prendere a meno i primi 600, il lancio dovrebbe essere l'ordine del 14 e i 600 iniziali in 44 scarso, Sofiaz, Silent Shadow, Sakila, Scintilla, Fila indiana, con l'arco della seconda curva, con la Saura da Ganymed che ora completa i primi 800 in 59 e mezzo, quindi è ripreso un po' fiato in quest'ultima frazione Sofiaz, adesso si va all'imbocco della retta opposta alle tribune, Sofiaz, Silent Shadow, Sakila, Scintilla, non cambia niente alla chiusura del primo chilometro, in 1.148 sul mio cronometro, sposta Scintilla MP dal fondo del gruppo, appariglia Sakila, prova ad avvicinare Silent Shadow, tanto Sofiaz è sempre salda battistrata a 400 dal termine, con tre quarti di miglio in 1.30, Sofiaz in vantaggio, poi Silent e Scintilla, quindi Sakila, che risente un po' di quanto ha speso nella fase iniziale, ingresso della retta di arrivo, Sofiaz al comando su Silent Shadow e Scintilla MP, allunga Sofiaz, prova l'attacco, Silent Shadow, Silent Shadow all'attacco di Sofiaz che deve essere richiesta nel finale, Sofiaz facile alla meta, davanti a Silent Shadow, poi Scintilla e Sakila, 1.598 sul mio cronometro, un 15 scari sulla media, 14.9, 14.8, qualcosa del genere, il successo, il secondo su tre uscite per la biondissima Sofiaz con Enrico Bellei, il training di Gennaro Casillo, i colori sono della scuderia Zio Piero, quota totalizzatore ovviamente molto bassa, 1.44.